Ciao a tutti, benvenuti in questo video dei pronostici della 34esima giornata di Serie A e 35esima giornata di Serie B come sempre giochiamo insieme, io e voi, è tutto gratis, 1x2 oppure gol massimo 3 doppie per l'A, massimo 3 doppie per la B ebbene sì, ci avviciniamo sempre di più alla fine di questi due campionati è vero, la B ha poi play-out e play-off, quindi staremo ancora insieme forse vi porterò anche i play-off in Serie C, dipende un po' come vado col lavoro ci sono gli europei di calcio, c'è il calciomercato quindi non vi lascerò da soli neanche quest'estate però mi raccomando, neanche voi lasciate da solo me quindi attivate la campanellina, è tutto gratis lasciate un like, un commento, mi piace se avete like e mi piace, sono la stessa roba è tutto gratis, non vi costa nulla poi quando uno ha tempo, se li va a vedere i miei video per carità vi capisco benissimo, il tempo stringe per tutti quindi sotto l'ombrellone, nel picnic, in collina, in montagna quest'estate starete con in monta lo stesso sono il vostro amico del cuore immaginario andiamo ragazzi a vedere come è stato l'altra volta bene, bene, finalmente torniamo un pochino nei ranghi del monta 7 di A e 8 di B ho preso 7 su 10, 8 su 10 ma ve le elenco allora Genoa-Lazio 2 2, presa Cagliari-Juve 1x X, presa questa era tosta Empoli-Napoli, avevo detto X ahimè, è uscito 1 sbagliata Verona-Odinese 1 1 Sassuolo-Lecce X è sbagliata anche questa perché è uscito il 2 no, ma non era da versare la colpa di Lecce no, no, voilà no, no, no ma così come Sassuolo era colpa di Dionisi sì, 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 va bene in questa cosa qui vi invito nel recap che parlo di tutte e venti le squadre sia di A che di B mi raccomando, seguitemi nel recap vi aspetto Torino-Frosinone 1 è uscito X sbagliata Sanetana-Ferentina 2-2 Monza-Atalanta gol 1-2 è finita quindi sì gol Roma-Bologna X2-2 presa Milan-Inter X2-2 presa quindi 7 su 10 in Serie A appunto andiamo con la Serie B andiamo con la Serie B Palermo-Parma X2 è uscito l'X quindi presa Reggiana-Cosenza X è uscito il 2 non me lo sarei mai aspettato ma sono contento per i cosentini quindi questa è sbagliata Ascoli-Modena X-X presa sentite un po' Bari-Pisa X-X presa Brescia-Ternana volevo dire X non so perché alla fine ho detto 1 è uscito X che avrei preso anche questa boia me Ferralpi-Salò-Como gol 2-5 quindi sì gol è uscita Catanzaro-Cremonese 1-X X presa Lecco-Venezia 2-2 presa anche questa Spezia-Sandorio-X2-X presa e sul tirò-Cittadella X-X presa quindi 8 su 10 8 su 10 momento SMR ormai lo sapete e andiamo con quelle di questa settimana che vedono domani sera due anticipi di serie B e uno solo di serie A se non erro sì mi sembra di sì allora andiamo 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 mi raccomando 1-X2 oppure gol massimo 3 doppie fatemi sapere come siete andati l'altra volta fondamentale questa cosa se no mi arrabbio fatemelo sapere non vi costa nulla fate lo screenshot del vostro commento settimana dopo ve lo guardate ve lo cancellate siete anche liberi andiamo Pisa Catanzaro ovviamente dopo guardate anche i risultati che sono usciti reali che basta dovete andare a controllare i risultati esalti Pisa Catanzaro mi piace mi piace Pisa Catanzaro proviamo un X2 proviamo un X2 prima doppia subito così Venezia Cremonese mi piace l'1 mi piace l'1 Brescia Spezia è un'altra partita dove mi piace l'1 Modena su Tirol vedo un pari Parma Lecco 1 Ternana Ascoli me lo auguro per loro Ternana Ascoli provo un 1x Cittadella Feralpi Salò X Cosenza Bari occhio Bari occhio occhio che questo è tosta Cosenza Bari 1x terza doppia Palermo Reggiana 1 Xandoria Como provo gol provo gol avrei provato anche il 2 ma provo gol queste sono quelle di serie B secondo me qualche dubbio su qualcuna che ho detta ma vediamo vediamo mi raccomando anche voi ovviamente si fa per divertirci ragazzi va come va non è che stiamo qui a guardare il pelo nell'uovo come si suol dire andiamo con la serie A Frosinone Salernitana vuoi che Di Francesco non vince neanche questa? vuoi che pareggia anche questa Di Francesco? non lo so Frosinone Salernitana provo un 1 provo un 1 Lecce Monza 1 sì Lecce Monza 1 Juventus Milan momentaccio per tutte e due Juventus Milan Juventus Milan proverei un un X un X mi tengo il bonus se non uso le doppie Lazio Verona se ne avanzo più che altro Lazio Verona vedo un 1 Inter Torino ormai sul campione d'Italia mi frega più un cacchio hanno festeggiato troppo non lo so però Inter Torino per me può essere una partita da gol Bologna Odinese 1 Atalanta Empoli preghiamo 1 non sto usando doppie poi Napoli Roma X2 seconda doppia no prima doppia non mi ricordo più mi sa prima doppia perché Frosinone Salernitana mi sa solo 1 Napoli Roma X2 quindi Fiorentina Sassuolo per me è un 1 Genoa Cagliari mi piace l'X ok allora ho usato se non erro una sola doppia se non erro potrei sbagliarmi la seconda la metto in Juve Milan che mi gioco l'X2 qualora avessi sbagliato ragazzi valgono le prime tre che ho detto le prime due le prime tre quindi Juve Milan X2 e la terza doppia me la gioco in Genoa Cagliari che metto l'X2 anche qui ok invece che solo l'X se ho sballato io vi chiedo scusa perché a volte io veramente me li perdo le conto poi le perdo non so come cazzo faccio bisogna che me le segni ma le segno la settimana dopo io cioè io quelle che gioco non ho mai capito perché mi piace il bello della diretta di dirvelo real quello che penso però mi auguro di averne giocate tre perché ho dei dubbi di averne giocate quattro quindi qualora ne ho giocate quattro non vale quella di Genoa Cagliari ovviamente che è l'ultima che ho detto ok quindi mi raccomando fatemi sapere come siete tanti l'altra volta ve lo ripeto è tutto grattis iscrivete al canale tirate la campagna mette il piaccio commentate se siete nuovi presentatevi mi fa piacere conoscervi tutti perché nei video dei pronostici si iscrivono sempre in tanti quindi se vi va grazie in tanti in tanti per il mio canale per i canali normali dove si iscrivono 300 persone al giorno no però per me sono comunque tanti grazie a tutti quanti di aver visto il post partita di ieri della Dea andate a vedere quello di Lassia Juve vi chiedo un favore voglio provare ad arrivare a 3.50 con quel video lì ne mancano 130 non succederà mai ma qualora mi volete fare sta grazia io vi ringrazio hashtag la fine grazia ecco poi ci starebbe anche graziella eccetera eccetera ragazzi ci vediamo con il video ospite spero domani o sabato domani forse esce un po' spartita di serie B non vi prometto niente bisogna vedere un po' i vari cosi da fare a casa i vari impegni vi abbraccio buona weekend buon tutto ci vediamo presto un abbraccio il vostro mondo ciao ciao